Con il calo dei mercati azionari molti titoli precedentemente sopravvalutati sono stati ridimensionati e ciò ha portato a delle ottime occasioni di acquisto. Ricordiamo però che investire in single stock non significa andare alla ricerca di quelle azioni che ti fanno il 100% in un paio di mesi, ma investire in un business duraturo nel tempo che possono generare dei buoni rendimenti nel lungo periodo. Fatta questa premessa andiamo a vedere tre titoli che riteniamo molto interessanti alle valutazioni attuali. L'SP500 è il ribasso di oltre il 20% da inizio anno e molte aziende si trovano in una situazione ancora peggiore. Vi ricordate tutte quelle aziende tech che nel 2020-2021 avevano registrato rendimenti da capogiro? Beh, hanno quasi tutte perso tra il 70 e il 90% del proprio valore dall'inizio di questo bear market. Ma tra la lista di queste aziende che hanno perso molto non troviamo solo società in perdita e che bruciano cassa, ma anche aziende enormi con un business più che stabile. Analizzando questa stessa lista abbiamo scelto tre società che con le valutazioni attuali stiamo seguendo più da vicino per un possibile acquisto. Ricordiamo sempre che questi video li facciamo solamente a scopo informativo per farvi comprendere quello che è il ragionamento che segue la scelta di un titolo. Non sono assolutamente dei consigli di investimento, fate sempre le vostre valutazioni. L'azienda numero uno nella lista vi è sicuramente familiare, ovvero Amazon. La società a causa della situazione macroeconomica attuale non se la sta passando benissimo. Infatti negli ultimi trimestri l'azienda sta cercando di tagliare più costi possibile per evitare di impattare ulteriormente l'utile. Per chi non lo conoscesse nel dettaglio ecco come guadagna Amazon. Amazon divide la propria attività in tre segmenti, Nord America, Internazionale e Amazon Web Service. I primi due di questi segmenti, Nord America e Internazionale, si riferiscono alla suddivisione geografica dell'attività di vendita al dettaglio di abbonamenti prime di Amazon. Amazon Web Service, che da questo momento lo abbrevieremo con AWS, lanciato nel 2006 fornisce servizi ad aziende, agenzie governative e istituzioni accademiche ed è il segmento dell'azienda in più forte crescita e con i margini migliori. Analizzando l'ultimo trimestre si può notare un aumento delle vendite di oltre il 10% che diventa il 12 a valuta stabile. Il 61% del fatturato deriva dal segmento nordamericano, il 24% da quello internazionale e il 15% da AWS. Le dichiarazioni fatte dal management durante l'ultimo rapporto degli utili fanno sicuramente presagire un ulteriore periodo di debolezza per il colosso dell'e-commerce, la cui crescita per il quarto trimestre, storicamente il migliore per l'azienda, si attesterà tra il 2% e l'8%. Amazon resta comunque il più grande rivenditore del mondo e come altre due società che nomineremo successivamente, pensiamo stia solamente passando un ciclo di mercato non favorevole al proprio business. Per questi motivi la zona di interesse per l'acquisto di questa azienda si attesta tra i 93 e gli 80 dollari per azione. Attualmente ci aggiriamo proprio dentro questo range, quindi potrebbe già essere un buon primo punto d'ingresso. La seconda società è una di quelle aziende che è stata quasi completamente abbandonata dai propri investitori, ovvero Meta. L'ultimi risultati trimestrali dell'ex Facebook hanno deluso fortemente il mercato che ha punito severamente la società con un ribasso di oltre il 24% il giorno successivo. Secondo la maggior parte degli investitori il tutto è causato dal progetto del metaverso che sta portando al declino la società. Proprio per questo progetto l'azienda viene fortemente criticata anche dai propri investitori. Si ritiene che la liquidità investita in questa parte di business sia buttata al vento a causa dello scarso successo attuale. Forse però non hanno letto attentamente dove Meta sta investendo la maggior parte del proprio cash. Prima di creare la propria storia intorno al business di un'azienda vi ricordiamo di leggere sempre gli ultimi rendiconti finanziari. Il racconto più popolare che gira su Meta è che il modello di business è arrivato alla fine a causa della migrazione degli utenti su TikTok. I numeri però ci stanno dicendo il contrario. I social di Meta infatti continuano a crescere. Non più come una volta questo è certo ma continuano a farlo. Quello che si nota è una coesistenza tra tutte le piattaforme social. E per quanto riguarda il declino dell'utile della società allora è vero che il metaverso sta rovinando l'azienda? No e andiamo a vedere il perché. Analizzando le spese sostenute dalla società si può notare un particolare molto interessante. L'82% dei costi sono relativi alla sezione di ricerca e sviluppo delle FOA ovvero Family of Apps Instagram, Facebook, Whatsapp e Messenger. E solo il 18% delle spese è attribuito allo sviluppo del metaverso. E il motivo di tutti questi investimenti da parte dell'azienda nel suo business principale è solamente uno. La voglia di continuare a crescere. Dopo essere stata colpita dall'aggiornamento di iOS Meta ha deciso di innovarsi e di sacrificare i risultati a breve termine per migliori risultati in futuro. Sembra essere nuovamente entrata in quel momento di vita di un business in cui è necessario investire pesantemente per continuare a crescere in futuro. Probabilmente continuerà a soffrire nel breve termine ma la storia per Meta è molto diversa da quella che ci stanno raccontando oggi. Attualizzando la crescita futura a seguito della nuova trimestrale, secondo la nostra analisi oggi Meta viaggia oltre il 65% di sconto, il che ci lascia un buon margine di sicurezza. Ed è proprio su questa analisi che noi guardando il grafico ci possiamo dire che la zona nella quale si trova adesso l'azienda per noi è un buy. La terza e ultima azienda non è altro che Alphabet. Onestamente avevamo ormai perso la speranza di poter tornare a mettere all'interno del nostro portafoglio questa azienda dopo il volo che hanno preso le sue quotazioni post covid. Invece eccoci qua. Ma come funziona il business di Alphabet? L'azienda offre una vasta gamma di software e servizi e soluzioni relativi a internet. Sfrutta le sue varie piattaforme e servizi per generare una parte sostanziale delle sue entrate dalla pubblicità. Il segmento dei servizi di Google comprende una gamma di prodotti tra cui Chrome, Google Maps, Google Play e YouTube. Questo è il segmento che genera la maggior parte dei suoi ricavi proprio dalla pubblicità. Altre fonti di reddito includono le vendite e gli acquisti in app. E in più quelle commissioni ricevute per la vendita di prodotti digitali e abbonamenti come YouTube Premium e YouTube TV. Il conglomerato di questi prodotti genera oltre il 90% delle entrate della società. Il secondo segmento è quello del cloud e il terzo è quello relative alle scommesse della società. All'interno di quest'ultimo per esempio troviamo la sua attività di guida autonoma ovvero Waymo. Come possiamo vedere da quelli che sono i dati passati i ricavi dell'azienda e anche l'utile è cresciuto in maniera esponenziale. Stessa cosa si può dire del cash all'interno dell'azienda ma non del debito quindi la posizione finanziaria è assolutamente solida. Quello che possiamo notare inoltre analizzando gli ultimi due anni della società è una piccola riduzione del margine operativo ma con i ricavi che continuano a crescere. Adesso che ci manca solamente l'ultimo trimestre dell'anno saremo a vedere se Google sarà in grado di battere o meno i risultati dello scorso anno che per l'azienda sono stati risultati da record. Il rafforzamento del dollaro e la situazione tesa di una recessione in arrivo stanno comunque impattando negativamente sui risultati dell'azienda il che potrebbe dire che l'investimento potrebbe risultare più volatile del previsto. Ammesso questo non vediamo alcun motivo per depennare Alphabet dalla lista delle tre migliori aziende da comprare. Infatti noi vediamo come possibile zona d'acquisto quelli che erano stati i massimi pre pandemia. Una zona che va tra gli 80 e i 75 dollari per azione. Voi invece come vi state muovendo in questa fase di ribassi e lateralizzazione del mercato? State comprando o vendendo perché pensate che il peggio debba ancora arrivare? Raccontateci tutto nei commenti ma soprattutto se volete vedere come ci muoveremo in questo e nei prossimi mesi non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie e alla prossima!